Olga Gambari, buongiorno. Buongiorno a voi. E benvenuta davvero qui nel nostro podcast del Posto delle Parole per condividere il suo romanzo, il primo romanzo, Il nome segreto. Il romanzo è pubblicato dalla casa editrice Miraggi nella collana Scafi Blu. Olga Gambari si occupa di arte come curatrice indipendente, critica, giornalista, collabora con La Repubblica, il Giornale dell'Arte, è stata direttrice artistica di The Others Art Fair, che tra l'altro è un punto di attenzione importante dell'attività artistica torinese, e poi del Festival Internazionale dell'Arte Indipendente Next, direttrice responsabile del progetto editoriale ArtSera.it. Ha diretto tra l'altro Paratissima, insegna storia dell'arte contemporanea e fenomenologia delle arti contemporanee all'Istituto Europeo di Design, ha curato mostre e progetti artistici e qual è l'ultima mostra, Olga Gambari, che lei ha visitato? Visitato? Sì. Allora, la settimana scorsa a Torino è stata la settimana per eccellenza con Artissima. E quindi ne ho viste moltissime, molte belle. Forse ne scelgo una, che è una mostra alla Fondazione Merse di un artista palestinese che ha messo in scena questo progetto dedicato a un museo dell'umanità e della storia naturale, ed è molto interessante perché è un progetto nomade che racconta dell'umanità senza alcun tipo di differenza, non solo nell'ambito delle persone, quindi del genere umano, ma anche rispetto all'ambiente. Ecco, quindi una storia naturale che tutto comprende questo mondo fatto di umano, organico, vegetale, minerale, ed è, come dire, un messaggio senza tante didascalismi o slogan che indica la strada e soprattutto la visione giusta rispetto a quello che purtroppo sta accadendo e continua ad accadere nella nostra storia universale. E' certo che le parole che lei ha detto occupandosi di arte senza didascalie e altre cose sono parole mica da poco. Quanto a volte le didascalie sono, non dico inutili certamente, ma sono anche un po' portatrici in altri luoghi del significato. Intende nell'ambito dell'arte o in generale? Nell'arte, nell'arte. Nell'arte contemporanea questo discorso sulle didascalie è un tema molto dibattuto, perché purtroppo spesse volte si tende a non metterle nelle mostre. Io prima dicevo senza didascalie nel senso che è evidente, empatico, e che è un aspetto molto importante dell'arte, quello di essere diretta con il pubblico e non aver sempre bisogno di troppe spiegazioni e troppe parole, anche se io quello faccio quando mi occupo come critica. Però il tema della didascalia, cioè che chiunque si avvicini a un'opera e possa vedere il titolo o il fatto che non abbia un titolo, che cosa sia, come si è realizzata, naturalmente il nome dell'autore invece mi trova favorevole, perché secondo me è proprio un ingresso fondamentale nel primo contatto con il pubblico e va sempre messa. Poi ci sono molti modi di metterle, non necessariamente bisogna mettere l'etichetta attaccato vicino al lavoro, però quello per me è un elemento importante della presentazione e dell'accoglienza del pubblico. Però io mi scusi se dico questo e abbasso sicuramente la qualità delle cose che lei ha detto. A proposito di didascalie, sarebbe molto bello che le didascalie fossero messe ad altezza occhi. e non piegarsi a volte quasi fino a terra. Certo, no, no, ha ragione, ha ragione, ha ragione, concordo. Questo è, insomma, è un vizio, vezzo, e dicevo prima una questione nel mondo dell'arte, insomma, nella fase, nel tema della preparazione delle mostre è molto ribattuto, ci sono varie soluzioni, varie idee, insomma. Però ecco, l'approccio dovrebbe essere molto semplice, accogliente anche da questo punto di vista. Il nome segreto è il romanzo che stiamo per raccontare. Lei ce l'ha portata di mano, Olga Gambari, il suo libro? Sì, ma lo sono preso qua, in effetti ci ho pensato, ho detto, me ne tengo una coppia vicino. Bene, allora ci fa ascoltare come comincia. Sì, spero di dare una buona lettura. I lamantini erano là, danzavano davanti a lei, morbidi, flessuosi, dentro un pezzo di oceano racchiuso in una vasca, gigantesca. Per esplorarla tutta con gli occhi bisognava compiere una torsione dei muscoli del collo di 180 gradi, tonnellati di acqua salata, quintali di rocce e massi che formavano pareti e fondali, e poi piante, coralli, sabbia. Una massa marina che ogni volta l'accoglieva come un rifugio in cui trovar pace. Era incantata da quelle creature acquatiche così enormi, armoniose, così belle da essere sembrate sirene a generazioni di marinai, eppure così goffe quando si spiaggiano sulla terraferma per prendere aria e sole. Vederle condividere quella liquidità ovattata le confermava che ogni essere vivente appartiene un preciso elemento. Certamente i lamantini all'acqua, i gabbiani all'aria, lei allevano in scienza. Da quando viva a Genova viene spesso all'acquario. Appena arriva cerca il loro sguardo. A volte è seduta su una delle panche di fronte alle vasche, altre in piedi, vicinissima al vetro. Si guardano e si riconoscono, ne è sicura. E quella danza diventa un'esecuzione esclusiva per lei. Il loro modo di salutarla. E così comincia il romanzo Il nome segreto di Olga Gambari pubblicato da Miralci. Però per entrare in questa storia richiudiamo il libro per un attimo e andiamo all'immagine di copertina. Perché l'immagine di copertina ha molto da dirci. Che cosa Olga? È un'opera di un'artista che si chiama Cristiana Palandri. Un'artista meravigliosa che utilizza molti linguaggi diversi. Cioè il disegno, la pittura, l'installazione, il video e il suono. Ed è un'opera particolarmente per me cara perché esattamente come diceva lei è un'immagine che può raccontare e contiene tutto il libro. Di fatto si vede la silhouette di una donna, una danzatrice in qualche modo, però una danzatrice non professionista, ha i tacchi e ha la testa che è trasformata in una sorta di nebulosa, di stelle, un po' come se avesse uno spazio cosmico in testa. E c'è però un serpente che serpeggia, che attraversa questa testa nebulosa e un po' la avvolge. Ed è l'immagine di questa protagonista che è una donna, una creatura femminile che passa attraverso varie vite, che contiene già e che sceglie di vivere con una sorta di mistero in testa, ma mistero per lei stessa, non mistero per gli altri. E questa idra è simbolica di qualcosa che la morde, che le sta le calcagna, ma che in realtà è anche davanti a lei. E questo lavoro è di questa artista Cristiana Palandri ed era un lavoro che lei mi aveva donato tempo fa quando abbiamo fatto un lavoro insieme e quando si è trattato di scegliere la copertina avevo subito presente che potesse essere la copertina perfetta. E anche gli editori, che sono stati dei compagni di lavoro meravigliosi, hanno subito accolto e trovato che quest'immagine, quest'opera fosse perfetta. E poi anche sulla carta utilizzata per la copertina, no? Sì, sta particolarmente bene in effetti. In effetti, perché è fatto su carta e qui la materialicità della copertina è anche… e poi magari è una cosa tecnica, però l'attenzione all'utilizzo delle carte di copertina, all'utilizzo delle carte interne. Credo che quando noi diciamo che un libro ci piace, certo sta nella storia, però anche nella forma contenuto. Perché c'è un modo di dire che, a proposito delle storie, a proposito dei fonti tipografici, che il carattere di un libro non è solo nella storia. Lei è d'accordo? No, assolutamente. I libri sono anche degli oggetti e c'è un rapporto empatico, secondo me. Anche quando uno va in libreria ci sono tutte le copertine, tutte le… e la cosa peggiore sono le copertine che cercano di essere accattivanti, con immagini che poi non c'entrano nulla e sono deturnanti rispetto alla storia. Andiamo subito a definire quali, per esempio, quando ci sono soprattutto i primi piani di belle ragazze che guardano in macchina, no? E' così. E non c'entrano nulla e sono… e soprattutto tolgono, secondo me, bloccano quella che è la meraviglia della letteratura, cioè il fatto che ogni storia appartenga a chi la legga. E la riempa di visi, di luoghi, di dettagli, di odori personali, prodotti da se stesso e quindi in questo la letteratura è davvero qualcosa che rende sempre attivo il lettore, un po' come la musica. Sono, secondo me, dei linguaggi veramente superiori a qualsiasi altro. E quindi questo di rendere il libro comunque anche un prodotto accattivante è qualcosa di scorretto che immediatamente magari può avere buon gioco perché qualcuno sarà attirato per vari motivi da una copertina. Ma poi tradisce quello che è lo spirito del libro e della storia a cui è abbinato. E poi c'è la cura. Io scrivo anche in altri ambiti, per cui naturalmente ho un occhio particolare e anche una ipersensibilità a questo. Però la cura nella costruzione delle pagine, il non avere errori, nella pulizia di tanti elementi, quelli sono degli aspetti fondamentali del corpo libro. E sono degli aspetti anche importanti rispetto alla storia che viene letta, che viene attraversata. Altrimenti creano davvero dei disturbi. Un libro brutto, mal stampato, che magari contenga tanti refusi o abbia così poca cura, sicuramente allontana dalla percezione della storia e dei suoi personaggi, delle atmosfere, del tema trattato. E adesso entriamo nel viaggio, nel lungo viaggio di questa storia, di una storia di donne, ma non solo. Una storia dove l'acqua ha un elemento, dove l'acqua è un elemento importante. Tant'è vero che la prima volta che ho guardato queste immagini di copertina, mi scusi se torno su questa immagine, e nella testa ho intravisto quasi una medusa, e poi avevo del tutto sbagliato. E questa storia che mette molte donne insieme, a cominciare da Eva, questa giovane ragazza, ha 12 anni, se ricordo bene, e quando le succede qualcosa di terribile, muore la sorella, la sorella più piccola, e muore annegata. E in quel momento non è che si anneghi semplicemente la sorella, ma annega anche una vita, una vita, quella che è rimasta, quella di Eva, e lei deve far di tutto per non annegare anche lei in altre forme. E allora qui comincia, si sviluppa questa storia che non passa attraverso le parole, perché si può diventare muti, no? D'altra parte quando c'è un dolore talmente atroce si dice che non si hanno parole, no? Ed è il momento in cui ci si cura attraverso il silenzio. Poi ci sarà anche il momento in cui la parola diventa taumaturgica e c'è necessità di ritornare alla parola, e quindi di poter fare i conti con il mondo, con se stessi, la propria vita personale, e la parola ritorna di nuovo prepotentemente a farsi significato. Però è il mutismo la cosa più terribile che deve vivere Eva? Allora, assolutamente, parto dall'inizio, sento molto la lettura che lei ha dato a partire dall'elemento acquatico, che è un elemento fondamentale, è un romanzo molto acquatico, anche proprio come metafora di che cosa sia l'acqua, perché l'acqua, il mare, a parte che sono l'elemento da cui tutti noi abbiamo origine, quando ci formiamo come corpi, siamo immersi in un liquido, e questo credo che rimanga una memoria fondamentale, anche nel benessere o nel malessere che proviamo nel resto della vita quando ci immergiamo, perché l'acqua è molto amata, ma è anche molto temuta, e quello poi credo che dipenda dalle esperienze personali come tipo di reazioni. E quest'acqua è una metafora proprio di dove, come diceva lei, sprofonda questa sorella che purtroppo muore, perché l'acqua è molto pericolosa, l'acqua è accogliente, salva, mi sono fatti al 98% di acqua, ma l'acqua può essere davvero il mare, se non viene rispettato, è qualcosa di molto pericoloso, e banalmente uno degli elementi fondamentali della natura, e noi vediamo che cosa la natura attraverso il mare violato sta facendo e si sta ribadendo la sua furia, la sua presenza, la sua amatrice originaria. Anche Eva sprofonda assolutamente in un mare, in un'acqua, che è quella del suo inconscio, che è quella di un rimosso e di un'interiorità dove lei inizia a nuotare sott'acqua, nel vero senso della parola, e questo mutismo è anche, come diceva lei, ci sono delle volte rispetto a dei dolori, a dei buchi che accadono, voragini che si aprono dentro di noi, rispetto alle quali non c'è parola, non c'è nulla da dire, perché è proprio un assenso, un diventare afoni, e lei in questo naviga, nuota, si immerge, un po' riemerge, e poi si risprofonda in quest'acqua veramente simbolica, che è notturna, diurna, colorata di varie tonalità, e però sempre li ritorna, e anche ci sono una serie di figure, che sembrano quasi delle figure, delle creature mitologiche che incontra nella sua vita, che non ben capisce da dove arrivino, cioè se siano davanti ai suoi occhi, o le sgorghino dalla propria fantasia, da una propria interiorità, perché il piano del reale e della fantasia spesse volte si mescola, e questa è una cosa che però accade a moltissimi, a tutti noi in certi momenti della vita, e un altro aspetto importante di questa liquidità, di questa immersione nel proprio inconscio, in questa dimensione anche onirica, è la compresenza di tutte queste persone, figure, femminili, che sono tutti degli aspetti di Eva, ma in realtà il potenziale plurale che noi siamo, è una cosa che appartiene anche a questo tutti, cioè il nostro io è un noi, e questo per me è un punto importante e centrale del romanzo, che non è solo un romanzo femminile, assolutamente, ma l'identità è sempre plurale, c'è una convivenza per esempio di maschile e di femminile in ciascuno di noi, e quindi questo elemento liquido, questo permette di essere compresenti, senza chiusure, senza cesure, ma è una fluidità che passa a seconda delle ore del giorno, degli anni della vita, dei momenti in cui ci si trova. Lei parlava poco fa della pluralità, questo è un libro che ragiona molto sulla pluralità, sulla trasformazione, perché Eva quanto si trasforma, potremmo dire quanto è quasi costretta a diventare plurale per ritrovare la sua singolarità? All'inizio sì, apparentemente è una fuga, ma Eva è in fuga da se stessa e da questo nome segreto, che nessuno ha più nominato, perché la sua famiglia decide di reagire nel modo peggiore possibile, cioè cancellando la memoria di questa bambina morta, e quindi negando il nome. E noi, questo è un altro punto importante, chiaro che noi sappiamo apparentemente chi siamo, ma il rapporto con l'altro, cioè come noi siamo visti dall'altro, è fondamentale. E questo è un terreno scivoloso, perché da un lato noi viviamo nelle maschere e dietro alle maschere che la società, le persone, anche solo le persone che amiamo, ci danno e che noi decidiamo di indossare e dentro le quali nasconderci o essere in gabbia. Però è anche vero che abbiamo bisogno dell'altro per esistere, noi ci rispecchiamo negli occhi dell'altro, questo è anche un aspetto positivo, cioè il dare fisicità e presenza, cioè realtà a noi stessi. E in questo plurale, per me c'è una chiave importante di quello che è la vita, la comunità, che è un tema anche rispetto al quale nel mio lavoro nell'arte mi dedico molto ed è centrale, cioè se noi siamo capaci di accettare serenamente, né con gioia né con rabbia, in maniera come se fosse una normalità, la pluralità che noi siamo, che è anche una pluralità genetica, perché ciascuno di noi ha un segmento di DNA unico, e questo è fantastico, già dovrebbe essere illuminante. Ma se noi accettiamo, siamo capaci, prima di tutto siamo benissimo, perché non abbiamo bisogno di, come dire, di sempre identificarci, autodefinirci. E in secondo luogo, ci rendiamo conto della pluralità dell'altro e quindi questo rende tutto molto normale e molto più semplice rispetto alla convivenza, cioè il mondo, la vita è fatta di pluralità, di forme, in continua evoluzione e noi e gli altri siamo una di queste pluralità. E in queste pluralità si potrebbe, si può incontrare un giorno la pluralità di una persona chiamata Lupo ed è una persona assetata di conoscenza ed è una persona che è un punto nodale del romanzo Il nome segreto di Olga Gambari ed è una figura che lasceremo scoprire ai nostri ascoltatori, i prossimi lettori di questo romanzo pubblicato dalla casa editrice Miranci. Ma prima di salutarci, Olga Gambari, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro mi fa compagnia in questi giorni? Sto rileggendo per l'ennesima volta un libro che per me è stato fondamentale che si intitola Cent'anni di solitudine di Marquez e ogni tanto quando ho dei momenti di bisogno di varia natura è uno dei libri che riprendo in mano e rileggo perché è un buon luogo dove tornare e quindi adesso stavo stavo rileggendo questo romanzo che è un romanzo anche che può essere preso a tratti è un calidoscopio un universo sempre circolare in realtà con questo realismo magico che per me è anche una chiave di stile di indicazione importante Quanto è sola? Quanto vive la solitudine invece Eva? Eva vive e immersa nella solitudine fino a un certo punto lei è completamente sola in una solitudine in realtà fatta di molti personaggi molte figure che vivono in lei ed è come se fosse in ascolto di queste vite possibili che sono in lei che potrebbero essere e che poi incontra nel mondo dentro il quale viaggia un po' un romanzo di formazione in questo lei viaggia incontra città incontra piccoli mondi che le si schiudono però lei è una grande ascoltatrice e questo è un altro aspetto importante cioè l'ascolto l'ascolto della vita della realtà anche delle piccole cose anche quando uno esce ogni giorno non so prende un tram in un negozio ecco l'ascolto della vita che si schiude in quelle piccole dimensioni è enorme perché ci sono miliardi di racconti di dettagli di piccole storie che se uno sapesse cogliere lei fa questo in realtà si sposta ascolta e quindi da un certo punto di vista è sola ma non lo è mai grazie davvero Olga Gambari e buona giornata grazie a lei grazie a voi buona giornata